benvenuti nella nuova esposizione di cucine mia ed mk da ostilio mobili showroom mia ed mk cucine nascono da una realtà produttiva totalmente italiana il costante orientamento alla qualità e al dettaglio hanno dato vita ad un design rigoroso innovativo e senza tempo venite a visitare la nuova esposizione di ostilio mobili showroom a capriolo ci trovate a soli 400 metri dall'uscita di palazzolo dell'autostrada a4